ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video beauty terminati del mese di non lo so comunque prodotti top flop vediamo cosa mi è piaciuto cosa cosa mi è piaciuto allora buonissimo questo bagno schiuma della mantovani all'olio di argano top fenomenale fantastico non ci vuole averlo tanto formazione fantastica e ci andava a nozze sotto la doccia con questo ma questo bagno dolce molto buono della mantovani appunto vedete già buonissimo poi doppio mantovani sempre all'olio di argano mandorle dolci molto buono poi altro video alla conti ce n'è qua ti non ce n'è ben tre mantovani questo è la ti mandorla eccolo qua vedete si già si vede questo è vidal vidal miele d'acacia e vaniglia top molto buona fantastico profumazione top fenomenale mi davvero tanto poi come non uno ma ben due allora questo è tanto un verde su e su s placca e ora di scusate ma la finestra aperta per il fatto veramente troppo caldo nell'altro video che caricherò piano piano anzi lo ti ho caricato lo vedrete quando la pubblica lo sentirete meno rumore anzi per niente perché la finestra chiusa e ma le persone aperte perché veramente se no si mette si sente troppo rumore ma vabbè allora vi dicevo tanto un verde su s placca collutorio e ora di denti e gengive ecco qua questo è collutorio senza alcol molto buono top fenomenali fantastici poi un dentifricio della cosa sei tu sensitivo e finalmente l'ho finito della mantovani sarebbe questo qua wow mi è piaciuto un botto non credevo ma mi è piaciuto anche se provo a schiacciare ma tanto anche quello che rimasto io ce n'è poco quindi non credo di volerlo ancora utilizzare quindi oramai lo cestino perché c'è da un mese più in bagno quindi non fa più una mazza nel senso che non c'è più quindi cosa lo tengo a fare poi altro prodotto beauty che mi è stra piaciuto davvero tanto la splendor ne ho sotto la doccia in doccia addolcente al cocco appunto per ammorbidire i capelli lunghi e ribelli come miei d'altronde io le ho apro e quindi a questo punto questo è la mia salvezza vedete che buono che è fantastico poi la profumazione è divina è veramente divina la profumazione wow adoro molto buono fantastico allora questo ce n'è 300 mele di prodotto non so cosa potete vedere ma eccolo qua vedete no si così si vedete se ve lo avvicino e questo è il prodottino che ho utilizzato tantissimo per i miei capelli veramente ma veramente stra rebelli molto buono tocco niente busta terminata ovvero vuota e noi ci si vedete a un prossimo video è vero ho fatto un video a breve corto ma almeno avete visto quanti prodotti ho finito pochi ma buoni per fortuna e niente allora oggi devo dire la verità non ho fatto chissà quante cose in casa però adesso voi direte ora che c'entra questo video no per intrattenere un po di più se mi fa piacere e che dire il prossimo video se riesco non lo so farò video motivazionale polizie e niente e vi intratterrò e se no vi racconto che polizia ho fatto come i soliti video miei che clicci oppure direttamente vi porto in giro come video blog e niente non lo so oggi non ho potuto portare con voi non è che l'ho potuto mi ha dimenticato di vloggare ma un altro momento vi prometto aiuto la batteria sta mancando un altro momento vi prometto che vi porto con me ok niente ciao 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 ciao